Dove sei? Intefente, va qua! Chi è che parla? A Genaro! Chi è che parla? A Genaro! No, ma se parli di porti cappotti non capisco niente, già che può con il cibi è un casino! Oh no! Si solo la collega che mi voleva riconare un pochettino, alla prossima! Grazie!